Ciao a tutti, questo è un amico di solucione Matteo e oggi vi voglio farvi vedere le cuffie faccio uno stacco e le porto, ci rivediamo tra poco Ciao, guardate qua, sono le cuffie che vi voglio farvi vedere ora le metto qua e le faccio vedere anche in macchina faccio uno stacco e me la porto eccola si è una porch se non sbaglio la vedo qua è un ormai un orologio piccoli e se volete un giorno se ce la faccio faccio qualche video con la playstation vita perchè ce l'avevo usata da tanto tanto tempo aspettate che porto qualcosa è pochissimo eccomi di giornata era una pistola questo qua era il video come la mia non ve la faccio vedere perchè praticamente c'è tipo è piena di vestiti perchè è piena di vestiti è piena di vestiti quindi sentite fammi una cosa aspettate un po' ci rivediamo vediamo se funziona nel mio letto se si vede ragazzi non si vede tantissimo però ci rivediamo sotto in questo video voglio soltanto dire che ho imparato a fare gli stacchi quindi mi vedrete spesso spessissimo fare gli stacchi ok? beh ragazzi questo qua è il video se siete del toro mettete mi piace se siete della juve vediamo se c'è vabbè nel prossimo video metterò la manchetta della juve quindi se siete della juve mettete mi piace se siete del toro mettete mi piace e ci rivediamo al prossimo video ciao